Tutto pronto per l'edizione numero 27 della Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili che si terrà a goito dal 18 al 20 di ottobre. Tre giorni ricchi di avvenimenti per una fiera che cresce ogni anno. È dal 95 che è nata questa fiera, è nata con grande soddisfazione, sta crescendo sempre di più. Sono tre giorni di festa, sono tre giorni però anche di riferimento per gli operatori economici le sei latterie che aiutano la Goito Get Up e i comuni di Goito a organizzare questa fiera sul territorio. Ecco allora iniziative per tutte le età, conferme e novità. Non mancheranno le sei latterie dei Prati Stabili con la loro cucina e il tradizionale taglio della forma. Ci saranno poi le associazioni del territorio, la discesa in canoa e tanti appuntamenti dedicati alle eccellenze. In particolare quest'anno ci sarà una grande sorpresa. Abbiamo inaugurato il Chiostro dei Prati Stabili, un chiostro benedettino dove ci saranno in collaborazione con Onaf Mantua tantissime degustazioni, corsi di assaggiatore e tanti incontri con autore. Quest'anno abbiamo inaugurato anche una nuova parte dedicata allo street food e ai creativi. Insomma una tre giorni ricchissima dove non mancheranno le sorprese. Ma la fiera dei Prati Stabili è anche da sempre un momento per fare il punto sul settore. Ecco allora un importante appuntamento con il convegno che si focalizzerà sulle esportazioni e sui dazzi. È un momento molto importante per Granapadano. Sta vivendo una fase diciamo economica positiva e che sta dando delle grandi soddisfazioni a tutta la filiera. Però la preoccupazione per il futuro c'è, specialmente per le dinamiche internazionali e per quanto potrebbe accadere al mercato estero. E allora abbiamo pensato di utilizzare questo momento importante che è la fiera del Granapadano dei Prati Stabili per fare il punto con delle personalità importanti affinché possiamo chiarire perlomeno quali possono essere le dinamiche per il futuro riguardo le esportazioni. Diciamo che i temi su cui si baserà il momento di approfondimento sono legati all'esportazione negli Stati Uniti e in particolare anche un focus sull'esportazione nella Cina.